ciao a tutti amici tano tv per voi allora eccomi ancora qua pronto per stare in vostra compagnia allora iniziamo subito ma ma chi c'è qua come sei bello ma cos'è questo cappellino ma come se elegante ok allora iniziamo con la nuova puntata di oggi sai cosa ha fatto rosalinda un libro dove spiega il suo passato che non è stato tanto bello capito adesso ti faccio vedere e faccio vedere ai nostri amici quello che ha fatto vediamolo insieme eccomi qua buongiorno non so quante volte ho fatto queste storie per cercare di trovare le parole giuste e contenere la mia emozione che è davvero tantissima alcune di voi hanno già capito di cosa sto parlando perché sono andati a spulciare su amazon e hanno trovato quello che mi sto per dire allora questo progetto era un sogno che avevo in mente da tantissimi anni ma non solamente soprattutto nel cuore è un progetto che mi ha tra virgolette spinta ad analizzarmi tantissimo a fare un viaggio difficile dentro me stessa e nel mio passato per cercare di tirar fuori degli eventi molto traumatici infatti da oggi è disponibile su amazon il preorder del mio libro che si chiama il riflesso di me che sarà disponibile dal 27 settembre perché finalmente ho realizzato un libro dove racconto il periodo più difficile della mia vita cioè la mia lotta contro la manoressia e contro anche un disturbo alimentare si chiama binge eating che spiegherò all'interno del libro il mio vuole essere un racconto personale della mia esperienza non vuole essere un libro un manuale sui disturbi alimentari perché è solo la mia esperienza e alla fine troverete di contatti qualora avesse bisogno di con il supporto ed è stato realizzato solo ed esclusivamente per essere d'aiuto a chi lotta contro il disturbo alimentare a chi ne ha sofferto e quindi si può ritrovare nelle mie parole oppure a chi ha vicino delle persone che soffrono dei disturbi alimentari è stato un viaggio dentro me stessa molto molto difficile perché purtroppo quando si subiscono dei traumi a volte hai dei vuoti di memoria non ricordi gli eventi quindi mi sono sforzata tantissimo e l'ho fatto solo ed esclusivamente pensando e sperando che questo libro possa essere da aiuto quindi niente vi lascio il link di amazon se volete pre ordinare il libro che sarà come vi ho detto disponibile dal 27 settembre e spero solo ed esclusivamente che vi piaccia eccoci qua amici miei ben trovati allora siamo qui con il nostro gigino che bellissimo ti do un bacione ma sei bellissimo gigino allora ascolta gigino adesso parleremo di zengavo però prima voglio ricordare i nostri amici di iscrivervi al canale al canale attivare la campanella mettere i vostri like così vedo che ci siete e che mi sostenete e lasciate il vostro commento sotto il video bene ok adesso invece parliamo dei zengavo ci sono tante novità perché rosalinda è sempre a roma per fare le prove di tale quale show invece andrea ovviamente è a milano con il suo sport italia adesso caro gigino ti faccio vedere quello che è successo proprio in questi giorni guardiamolo insieme grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao. Piano, piano andiamo a casa, andiamo a casa, ciao amore, ciao amore. Ben trovati amici miei, allora siamo arrivati alla fine, adesso io e Gigino vi salutiamo, vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con Tano TV e Gigino. Ciao ragazzi, ci vediamo molto presto. Ciao bambini, ci vediamo bambini. Ciao, ciao.